Fabrizio Di Dio, consigliere comunale del gruppo Misto, ha presentato una interrogazione consigliare con oggetto ai servizi tra comune e gli ACP. Il consigliere, visto il permanere delle criticità dovute al dissesto delle strade urbane di proprietà e gli ACP, che rappresentano un pericolo per i veicoli e per l'integrità delle persone, in particolare quelle che collegano Vio Padre Pio da Pietrarcina con Viaturati, chiede quali proposte e iniziative si intendono adottare per risolvere i problemi. Abbiamo ascoltato il consigliere Fabrizio Di Dio, l'assessore ai lavori pubblici Marcello Franciamone e Antonino Mameli, direttore generale dell'OIACP. Su questa annosa vicenda, che fin dall'inizio che ci siamo insediati, abbiamo affrontato in commissione, l'ho portata addirittura il 18 dicembre del 2020, dove abbiamo convocato il direttore generale dell'OIACP, il dottor Mameli, e l'assessore a ramo Franciamone, e avevamo discusso sulla problematica delle strade, gli ACP di uso pubblico. Non sapendo di chi fosse la responsabilità sul mantenimento e sulla manutenzione di queste strade, ormai è diventato un collaboro, volevamo sapere come poter risolvere un problema che sicuramente colpisce la sicurezza dei cittadini. Queste sono strade, ne abbiamo tanto parlato con l'architetto di Dio, che è presidente appunto della seconda commissione consigliare, sono strade che sono di proprietà dell'IACP, praticamente rientrano all'interno del patrimonio dell'IACP, all'interno del quale negli anni passati appunto l'Istituto Autonomo Case Popolari ha realizzato gli alloggi sociali. Di fatto queste strade quindi sono di proprietà dell'IACP, come se fossero delle strade interne di un condominio sostanzialmente, però poi per prassi negli anni sono diventate ad uso pubblico senza nessuna, diciamo, un rapporto di, senza nessuna convenzione, senza nessun accordo tra i due enti. Più volte ho sollevato il problema anche con gli uffici, i quali hanno evidenziato un problema di legittimità sulla spesa di soldi appunto delle casse comunali su aree che in realtà del comune non sono. Appunto per questo mi ero fatto promotore di un incontro che potesse essere basilare per la realizzazione di un accordo, di un accordo tra appunto i due enti eccetera, affinché si possa risolvere questo annoso problema. La problematica sollevata dall'architetto di Bilio è nota agli uffici dell'OIACP perché ciclicamente si ripropone la stessa tematica, chi deve riparare le strade asfaltate all'interno della città di Galtanissetta e nello specifico quell'area all'interno delle palazzine costruite dall'OIACP ma in gran parte, forse nella quasi totalità, cedute agli assegnatari, per cui l'istituto non è più proprietario, rimanendo però in capo all'OIACP la proprietà ancora delle strade, tra la via Turati e la via Padre Pio da Pietrelcina. Più volte abbiamo ribadito che non è assolutamente compito dell'OIACP provvedere alla loro manutenzione, tra l'altro questo è stato ribadito da una sentenza della Corte di Cassazione, sezione civile, che addirittura la strada pur essendo di proprietà privata deve essere manutenuta dal Comune.